Stefano Milacic dovrà spiegare al giudice perché la notte tra il 2 e il 3 giugno scorso ha piazzato un ordigno artigianale davanti al liceo Flaminio di Vittorio Veneto. L'operaio di 47 anni, appassionato d'armi e membro di associazioni combattentistiche, è stato raggiunto venerdì da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di danneggiamento e violazione della legge sugli esplosivi. La deflagrazione fece andare in pezzi 32 finestre dell'istituto e dell'edificio vicino. Oggi l'uomo dovrà comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Milacic, difeso dall'avvocato Giuseppe Gulli di Conegliano, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo gli investigatori, che lo tenevano sotto controllo da mesi, si tratta di una persona pericolosa. Il pubblico ministero, ritenendo plausibile la reiterazione del reato, ha ottenuto la custodia cautelare in carcere. Per gli stessi reati comunque sono indagati a piedo libero due presunti complici, un quarantenne residente a Vittorio Veneto appartenente alla stessa associazione combattentistica ed un giovane di 24 anni. Ad incastrare Milacic sembra ci siano delle intercettazioni telefoniche con uno dei due indagati.